Oggi a NostiV faremo un bilancio della 33esima edizione della Fiera di Sant'Andrea e anche un bilancio dei primi mesi di attività del Museo del Mare di Caorle e poi anche una bella iniziativa a San Donà dove verrà realizzata una sala per gli studenti universitari, questo e molto altro ancora qui a NostiV. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di NostiV, un bilancio decisamente positivo per la 33esima edizione della Fiera di Sant'Andrea di Portogruaro che il 18, 24 e 25 novembre, nonostante la pioggia, ha registrato comunque 31.500 presenze complessive. Altre iniziative saranno realizzate durante la giornata del patrono del 30 novembre. Settiamo il nostro servizio. 31.500 persone alla 33esima Fiera di Sant'Andrea, questi numeri della manifestazione che in tre giorni ha visto la presenza di stand di associazioni, espositori, operatori di commercio, aziende agricole, artigiani, obbisti per un totale di 515 stand complessivi. Le aziende enogastronomiche del territorio coinvolte sono state 40, mentre sono state coinvolte complessivamente 80 associazioni e 100 tra artigiani e obbisti. Numeri significativi anche quelli legati alla sicurezza. Infatti è il primo anno in cui viene emessa in atto integralmente la legge Gabrielli, la recente direttiva ministeriale sulle manifestazioni pubbliche. Nove varchi di accesso controllati, sei varchi presidiati dalla protezione civile, quattro squadre di supporto a servizio delle persone che giravano per le vie del centro, tre squadre di primo soccorso con equipaggiamento di soccorso e defibrillatori, due ambulanze della Croce Rossa italiana e il centro operativo comunale con base all'oratorio Pio X presidiato dalla protezione civile. La manifestazione ha innanzitutto una idea di immagine diversa. Quest'anno siamo partiti non dal municipio per avviare la fiera, ma siamo partiti da una delle porte d'ingresso del Comune del Centro Storico di Porto Coraro. Siamo partiti da Torre Sant'Agnese. Con l'avvio a Torre Sant'Agnese si è voluta dare l'immagine che Porto Coraro non è solamente Piazza della Repubblica, ma Porto Coraro è costituita da tutte le realtà all'interno delle torri, ma anche da tutte le realtà che costituiscono l'intera città, quindi anche con tutte le frazioni. Il percorso ha voluto in qualche modo evidenziare le due nuove zone, zona di Via Cavour, la zona di Parco della Pace con le due nuove zone espositive. Un tentativo, più di un tentativo, la certezza di poter offrire una nuova opportunità alla città e al territorio, la certezza che Fiera di Sant'Andrea delle Oga degli Stivali, giunta alla 33esima edizione, potrà consolidarsi ultimamente nel tempo e diventare luogo di riferimento per tutta l'area del Veneto orientale, ma auspichiamo anche in un contesto italiano maggiore e più ampio. Un'annuazione importante, su temi importanti. Ho visto un protocollo assolutamente nutrito, quindi ci sono tutte le caratteristiche per un gioco di squadra dove il plauso va all'amministrazione comunale che ha saputo coordinare assieme alle Proloco e assieme a Confartigianato, oltre alle associazioni, il volontariato, insomma alle associazioni di fermento che c'è nel territorio, per mettere insieme un'occasione di conoscenza, di promozione, ma anche di valorizzazione, l'abbiamo detto negli interventi, di figure importanti per questo territorio. Quindi da Regione Veneto, da Vicepresidente, posso dire che noi siamo molto spesso bravi a fare, ma non ci sappiamo vendere bene e quindi l'intuizione di questa amministrazione nell'andare a premiare tre eccellenze, tre per tutte, poi ovviamente ogni anno si potrà dar lustro ovviamente a eccellenze che nascono e che crescono in questo territorio, è un elemento importante perché è un elemento che valorizza e dà significato a questo territorio che è un'entroterra ricco di assoluta valenza economico sociale e che deve per forza di cose guardare al litorale dove ci sono 35 milioni circa di presenze ogni anno di turisti che non sono più i turisti da lettino e da ombrellone ma sono turisti che vogliono conoscere per far vedere che non c'è solo Lignano, Bibione, Caorle e via di seguito ma c'è un'entroterra importante ricco di storia, di cultura, di enogastronomia e quindi il merito va anche in questo protocollo così importante, in questo programma così ambizioso di aver toccato tutte queste sfaccettature, quindi lunga vita alla fiera e soprattutto speriamo che gli eventi meteorologici ci diano anche una mano. I numeri di questa fiera sono anche noti, diciamo abbiamo oltre 400 espositori forse è la prima edizione che abbiamo dovuto anche non accettare prenotazioni ci stiamo organizzando tutti gli anni sempre promeglio soprattutto per quanto riguarda le prenotazioni anticipate in modo tale da poter essere pronti e ben preparati i giorni della fiera quindi una fiera dal punto di vista della presenza sicuramente riuscita cercheremo sempre di fare meglio, è un nostro dovere, un nostro compito non è il nostro compito principale perché l'associazione ovviamente si occupa di altri si occupa dei propri associati, della loro promozione e anche della loro difesa però promuovere il territorio vuol dire anche promuovere l'associazione, promuovere l'artigianato l'artigianato sicuramente straordinario che abbiamo in queste aree. Scendiamo in campo con 19 unità operative dell'azienda sia delle strutture ospedaliere che del territorio che del dipartimento di prevenzione lo facciamo qui con uno stand in cui dalle 9 di questa mattina fino a domani sera i nostri medici, i nostri primari, i nostri operatori incontreranno i cittadini per fare degli screening gratuiti, per fare delle consulenze per parlare con loro di materia sanitaria, della salute della nostra gente. E' stato inaugurato a Jesolo lo scorso sabato 24 novembre il centro civico di Passarella dopo gli importanti lavori di riqualificazione cui è stato sottoposto negli ultimi mesi che ne hanno migliorato la fruibilità sia dal punto di vista energetico che ambientale. I lavori, finanziati dal comune di Jesolo per un importo di circa 127.500 euro hanno portato al rifacimento del tetto, all'installazione di nuovi serramenti, al rifacimento della pavimentazione della palestra e dell'aula di musica e all'adeguamento dell'impianto elettrico. Sono stati poi realizzati nuovi servizi igienici, ridefiniti i locali interni e riqualificata la centrale termica. Con la conclusione dei lavori di riqualificazione energetica del centro civico ha detto l'assessore lavori pubblici Roberto Rugolotto consegniamo alla comunità di Passarella uno spazio accogliente e funzionale per lo svolgimento di attività che contribuiscono a far crescere le associazioni che operano in quella realtà e con loro tutta la città. Nuovo progetto di turismo sostenibile per il comune di Cavallino Treporti. L'amministrazione comunale martedì 27 novembre alle 20.45 al centro polivalente presenterà il progetto della nuova pista ciclopedonale di via Pordelio della lunghezza di circa 7 chilometri, 5 dei quali saranno realizzati a sbalzo sull'acqua. Un'opera importante di 12 milioni di euro che riqualificherà tutta la via adeguando e mettendo in sicurezza l'importante asseviario del litorale collegando Cavallino a Cassavio sino a Punta a Sabbioni. Il nuovo percorso consentirà di pedalare o passeggiare godendosi la vista della laguna veneziana. Un'importante novità in arrivo per gli studenti universitari di Sandona di Piave che potranno beneficiare di una sala studio aperta 7 giorni su 7 dalle 8.30 del mattino alle 24. I dettagli nel servizio. Un'importante novità in arrivo per gli studenti universitari di Sandona di Piave. La sala Alberto Landi del centro culturale Da Vinci a loro dedicata amplierà infatti il suo orario avviando l'apertura continuata. Il regolamento è stato approvato dalla giunta comunale e prevede che la sala videosorvegliata sia aperta tutti i giorni dell'anno 7 su 7 dalle 8.30 alle 24, fatte salve ovviamente le principali feste comandate. L'entrata sarà regolata da una chiave elettronica fornita dalla biblioteca civica a fronte di un deposito cauzionale di 15 euro. La validità della chiave, personale che non si potrà cedere a terzi, si estenderà per tutto l'anno accademico. Per ottenere la chiave elettronica a fronte di un deposito cauzionale di 15 euro si dovrà essere regolarmente iscritti alla biblioteca e al servizio. Servizio che scatterà dal prossimo 3 dicembre mentre la distribuzione delle chiavi è già iniziata. Da parte dell'assessore Daniele Terzariola è stato rivolto un ringraziamento ai coordinatori del gruppo Asterisco Aula Studio Alberto Landi e al personale della biblioteca civica. Parliamo del Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle nel servizio un bilancio dei primi tre mesi dalla sua riapertura. Campagne informative mirate e nuove forme di collaborazione con l'amministrazione comunale, le associazioni di categoria e le scuole del territorio. Sono queste alcune delle azioni che il Polo Museale del Veneto ha in mente per incrementare il numero di visitatori del Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle. Il museo ha riaperto i battenti alla fine di luglio, per la precisione il 27 luglio, e dal 31 ottobre ha totalizzato 771 visitatori. Durante il periodo natalizio il museo sarà coinvolto nelle iniziative del programma Caorle Wonderland, mentre per l'estate saranno introdotti voucher per l'ingresso agevolato dei clienti delle strutture ricettive ed eventi e campagne promozionali mirate a particolari tipologie di potenziali utenti. Confcommercio Portogruaro Bibione Caorle e Confcommercio Venezia CAF organizzano sul territorio incontri gratuiti dedicati alla fattura elettronica e alle ultime novità fiscali. Il primo incontro si terrà a Caorle martedì 27 novembre alle 10 nella sala comunale in Via della Stese. Il secondo si terrà al pomeriggio alle 14.30 a San Stino di Livenza, presso il centro Primo Levi. Giovedì 29 novembre alle 10 a San Michele al Tagliamento in Sala Consigliare e il pomeriggio alle 14 nella sede di Portogruaro. È giunto alla quinta edizione il progetto Ride With Us, che vede un gruppo di ciclisti veneziani impegnati in un tour con partenza da Venezia e arrivo alla città europea che ospita la conferenza internazionale sui cambiamenti climatici. Quest'anno la meta è Katowice in Polonia. La prima tappa in programma domani è la Marghera Udine e prevede una sosta in Piazza Indipendenza a San Dona di Piave tra le 10 e le 10.30 e un'altra poi a Portogruaro tra le 12.30 e le 13.30 alla casa editrice e di ciclo. A San Dona un gruppo di soci della FIAB San Dona Vivi la Bici si unirà al gruppo Ride With Us per accompagnarlo fino a Portogruaro. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che NostiV è presente su YouTube, Instagram, Facebook e sul 13TV che trovate sul 13 del vostro telecomando o sul 605. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.